E buonasera ragazzi bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui come avete detto dal titolo andremo a vedere come completare la quest esotica presagio e ottenere il nuovo fucile racconto dell'uomo morto. Prima di iniziare però vi invito a iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ed attivare la campanellina per rimanere sempre aggiornati sui video d'uscita. Detto questo iniziamo. Per ottenere la quest dovete innanzitutto entrare nel cara la notte di questa settimana. Invece di seguire la solita strada però prendete questa porta che trovate subito dietro i primi nemici fino a che non raggiungerete una stanza con un boss. Ucciso dovrete andare su questa piattaforma a destra e attivare il trasmettitore da cui riceverete una trasmissione di emergenza. A questo punto parlate con Zavala che vi sbloccherà la missione sulla riva contorta da cui potrete ottenere l'arma. La missione è una sorta di labirinto ed è a perere nostro molto bella. In caso abbiate bisogno di una mano per trovare la strada però vi lascio il percorso nei prossimi minuti. In ogni caso una volta terminata la missione vi basterà tornare da Zavala per ottenere l'arma vera e propria. Sì di qua c'è una piattaforma. Ma che cosa c'è a livello suo eh? Ma frate te che sono dieci livelli in meno. Cioè dieci livelli ci metti un po' a farli eh. Scusami hai ragione eh? Troppo poco in più. No Tommy Tommy. Ma hai detto che troppo poco eh? E tanto anche il mio ma frate hai dieci livelli in più. Ah vedi ciccioni o beccio. Chi va? Chi va? Chi va? trasponder dove si deve andare da Zavala. E' troppo alto di livello ericca. 6 e 60. Da qua bisogna andare. Ma come funziona un modificatore che sta? Non lo so ma non lo so. Per ora c'è un parkour. Carica che ne pensi del mio palindromo? Eh bello ma l'ho detto. Aspetta che troppo lui il primo. No Tommy no aspetta. No Tommy? Raga aspettatemi che tanto mi dovete aspettare avanti. Hai saltato di là eh? Guardate! Siamo tipo nel senso. No no questa è la roba del ramingo. Sono le piante struppie del coso del ramingo. Senti che numeraccio. Ma è il ramingo allora il guardiano scomparso. Passo il tempo raga. Qua sopra c'è la dentaccia. E' la mia lentola. C'è un mal di stomaco. Sto posto c'è un mal di stomaco. Di qua di qua. Senti ma che cazzo è? E' tipo un infame gigantissimo. Che cazzo è sto rumore? Che figo. A me fanno umore queste missioni. Dove si è andato di qua qua? Sì, me lo fanno bene. Un orologiaglio col pendolo è vecchia mi dispiace. Questa raga ci avrà raccontata 12 volte. Allora ci abbiamo sia sotto. Anche sopra, no. Sotto e basta. Ragazzi c'è una cosa io ma vado da Zavaro. La prendo? C'è Paolo e poi puoi avviarlo direttamente? Sì, dal director della riva. Guarda, guarda che schifo, guarda che schifo. Allora, boni tutti. Zitti un po', zitti un po', zitti un po'. Questi esplodono. Fa male, fa male, fa male, fa male. Che è che fa male? Aia, fa male. Ah, si può passare in mezzo con questo? Ok. Ah, solo con quella roba? Come si chiama questo? Punto esclamativo guida e la prendi. Collegamento e gre gre gre. Eh, devi passare in tre di secondi. Qui sono tutte chiuse, dapprò un pochino. No, bisogna andare qua sopra, raga, qua sopra. Qua sopra. Dove? Dove è qua sopra? Ti ti fatti, ti fatti. Io non ci arrivo là. Ci sono arrivati io, frate, con 65 minuti. Vabbè, boni, ti va andare là. Ti fatti come moracci brutti. Si. Mette un po' le claustrofobia. Allora, qua si sale. Poi, di qua. E giù? Non si scende. E si fa un parkourino. Minchiavo, stavo per dire, meno male che fino ad ora non c'erano parture. No, vabbè, non è niente particolarmente difficile. Vabbè, questi sono quattro prossimi, no. Che ansia. Come ho già traccato? La gliccone. È la nave, la gliccone. Poi, di qua ci possiamo andare, sì. Andiamo a vedere di qua. Oh, c'è un coso che... Ah! Ah! Quelli! Come si chiamano questi affari? Paramita. Qui... Qui c'è un terminale. Attivo. Non sei l'unico segno di vita a bordo. Ne rilevo almeno un altro. Ho aperto un terminale qui, quindi toccherà tornare indietro qualche parte. Si è aperta sta porta. Eccola, eccola, è comparsa qua. Allora, ci siete, andiamo tutti su quella di destra. 3, 2, 1. Sì, via. No, ma, sono castrato. Ehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehehecipehehehehehehehehehehehehehehehe. Pangemoneiggles. Oh, aspetta, aspetta ci sono i parametri. Oggi sono gli esplosivi Come già che si chiamano questi Bene ragazzi cominciate già mi sono aperto Qui c'è un'altra cosa Aspetta andiamo a vedere Di qua siamo oltre i cunni Un bagno che bisognerà Grappa chi stupide stregone E fa un culo Ma dove cazzo ci vuoi Perché li vediamo rossi Sarà forse la prima volta arrivare i rossi Qui ci sono degli terminali Ho attivato una leva Scusa io voglio provare a tornare indietro Ah c'è un fusibile qua da sparare Ci deve essere una terza leva Ah vedi Un fusibile sparato Porta aperta La corona è il tormento Leva tirata E la porta è aperta si È aperta Minchietto un mato Wow raga Eh sta roba boi Cazzo il buco di culo di mia califra Come ti hai fatto? Ah! Gatti ci sono delle garrate Sparate le garrate No no frate frate secondo me Dove ho avanti il fatto del qua No bisogna fare Ci sono delle grandi per a terra Dovremmo cercare un fusibile sdraiato secondo me Eccola qui sotto E qui sotto E qui sotto Frate non ce la faccio Io vi giuro impazzisco Frate ma dove manca? Eeeh io l'ho fatto Non lo so frate E fallo 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 il nome Ah Ricky Ricky Oh si sta prendendo si sta prendendo Oh si Questa qua rossa immagino Ragazzi ma che youtuber seguite ragazzi Cadete credere eh Eeeh no Ma c'è Ma c'è No Sento rumori Ma Sì ma guarda Tommaso Non avevo capito No ma c'è l'intuit di un segugio Oh no rientro mi ha limitato Voi torno su No raga raga non ci vedo C'è il locus di comuno Oh chi è Cazzo Ah ah che male Tutti il buon parole era femmina La buon parole era femmina No la 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 macchinista e la La trickster No per me Mh Mh Il miso insieme un altro dirige Illusionista Sta di nuovo No no ma ragazzi Stai zitti Ragazzi sta parlando Stai zitti Arcancio L'oscurità non parla tramite loro C'è praticamente lo scuritato Lo magnetio Ne ha provocato il rispetto figo per l'arrivo avuto un parco per venire e si fa la riserva non può mancare non è una nave conosciuta mi chiesto non si può droppare questo Oh, li sentite sussurri? Oh, raga, ho sentito? Kate Zay, non è colpa tua! E chi l'ha detta chi? Kate Zay! Ma poi ce l'ha scritto Kate Zay sulla voce! Non ci credo! Non ci credo! Riccardo li fida! Adesso te ne vai prima! Ti alzo come al cap e ti alzo un po'! Vai venite! Ciao, frate! Non era qua, si era qua! Si era qua! Frate, la cosa è notica? Oh, leva, leva, leva! E anche me ne ricorderò, Erick! Ma t'ho scritto tutto il pomeriggio! Cioè te, ma mi hai scritto dalle 6 alle 8 che mi stavo allenando, e tu lo sai che il martedì mi alleno! Leva ha aperto il fusibile! Ho tirato una leva, Tommy! Non vai, ti aspettiamo! Tu l'hai fatto apposta, così avevi la scusa per scommarmi! Cioè se... Oh no no no! Si è rifatto, ragazzi! Lo rompo e voi entrate! Dove si starta la missione, mano? Guardate, ci sono andata! No, riguarda... Guarda... Rompe, 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 rompe... Si si è tolti, si è tolti! Mi è so' entrato! Ah, van Gullva! Oh! Mi è so' di... Ma era, come dice ta manzo? Mi hai toglia, io la finito, sono andato! Puttana! Aspetta, senta, mamma... Ah, ma c'è una leva 40! C'è una leva 40! Ah, ok, c'è bello! Ma è che c'è... Che c'è sta qua dentro questa cosa, è... Qua c'è un'altra leva! Qua c'è un'altra leva... c'è a saleva avrà aperto una cosa con le scuole ma certo basta venire la porta che era sul lato questa meccanica mi piace magari ci facessero un bel rai che dà sta missione esotica armare che iniziona se vai dire prima lo vedi tipo il winchester frate spettacolare che cosa faccia su destino c'è l'invito ma c'è sta che portano 120 120 proiettari a me già piace bella bella cecchino riguardi c'è una colpo singolo frate che secondo me ci bello che tocca fa qua mano ma lo vieni addirittura ma gli hai fatta prendere questo proprio si starta la questa da qua poi rega per chi vuole facciamo anche un accenno di comunque ma non la cala che ci sta che cazzo è caluta libera ma il calo volete colino per la barba a proficante sia non è male non è male è sì perché guarda qua c'era una poca era qua che siamo usciti era secondo me abbiamo sbagliato scusate mi si è arrampicato la voce dell'altra la voce dell'altra il raro sicuro per il caccio di tecce pulisci la lama che bellissima io l'ho già preso poi a settecento è pochissima leva decori di armi neanche l'ombra io voglio l'arma oh c'è uno scorpius fuck ah quelle per titan no 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 porta aperta si immagino apra di qua si e ci stanno le spore ecco infatti le spore di chi? ormai ormai ce le mangiamo ma che state facendo non me la date regà ma tu vinto già l'hai fatta no ho iniziato ho trovato la via è un po' in unismo è tipo un labiolino facciamo vedere come gli atti sono ah tanto di qua ci stanno vari usciti aspetta pesa la quest indaga sul segnale di soccorso segnale localizzato c'è la riva sto andiamo no è andato da perché che stavi dicendo sulla mia titanide prima? freke è un brutto incredibile è perché sono le armature quelle da da tryharding for level uping produce lei la maledizione dell'esilio illuminata? si l'ho tolto nooo era per sapere il culo ah no c'è una porta aperta c'è una porta aperta qua ok tocca prendere le spore ricky dove vai? tu mi sono il tremone senti fra che mi insulta e io non posso rispondere perché riccardo è un coglione c'è un barbatrucco quello è 50 del pasto sono in ripresa e sta spacciatutto ma divertiti fra ma comunque l'impresa quella in alto a sinistra il simbolo è uguale a quella del ma qua c'è una porta scena sono una ciola è coltivile io spero sto andando beh ci saranno le spore immagino quindi cos'è cambiato spore ciao man ciao fra vai pensa che l'idea è se settimanalmente sti cosa cambiano si pure spore a sinistra io presumo che da qui io debba andare non so lì si ma fra sono un fenomeno ma pintoni dove vai se la banana non ce l'hai ma questo è osiris ma che cazzo c'ho ma che paura quella di zoppia restentivo all'acqua e va tu stai venendo no no stai venendo dai qui ci sono le spore cioè la porta delle spore eh allora tu tocca farla in speedrun ci dobbiamo far tutto questo coso aiuto beh c'è una leva dove c'è una leva però c'è una leva ma ragazzi siete cercati tira oh no uno scorpio era una leva burlona ah ma c'è un fusibile ma fa culo passa veloce spara io dove è essere fusibile devo prendere spoiler si hai un resto ho fatto l'ipo dai ma che cazzo prende la spore stai vicino sta porta ah ok poi c'è un'altra entrata ok ok così ora ce la si fa aspettate vai niente ah si mi è dato e ora qua non trovare dove andare oh porco e qui ci sono altre spore sono morto vieni Iboro vai 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 spari 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 ma non so prima the last phase portate corri corri sette secondi cinque quattro ok 2 1 oh oh c'è Calus un'altra volta ma stiamo sempre a intrattene Calus cazzo siamo una televisione che c'entra Calus ma c'entra Calus ma c'entra Calus ha detto intrattenimi vai insomma sono voci non sono voci delle persone vere sono voci che ricreano lui ho capito ma era la voce di Calus c'era scritto Calus ok ma non sono voci nostre sono voci vere oh eccolo il locus di comunione ma che nome è qual è la quest dello sfidante? si anch'io ho attivato qua secondo voi qual è la quest dello sfidante? ho attivato qualcosa scarico il refrigerante uno a due qual è la quest dello sfidante? è quella che mi fa il martello ah fuck 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 ah ok bisogna passare sotto però attivando questi casi refrigeranti ecco l'eccolo ecco l'eccolo il terzo il terzo ci servono le spore ok vado 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 c'è un cancro tumoreggiante a me non è lui oh è una persona ma chi è? quindi ragazzi io spero che il video sia stato utile e come al saluto vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto ha detto ora la campanellina e detto questo noi ci vediamo alla prossima ciao siamo la tua salvezza